buon sabato a tutti buon sabato a tutti al vostro caro frazzi buon sabato a tutti oggi con solita passeggiata del sabato mattina dunque sono venuto un po qua al fiume a vedere com'è oggi bella giornata bello caldo ci facciamo una bella passeggiata ogni tanto ci voglio sempre stare dentro casa ci vediamo a far una passeggiata le occhiette tanto mi manca pescare pescare la piccola cascatina una piccola cascatina le occhiette così ieri siamo stati da marcello abbiamo parlato un po di tutto dunque l'italia fuori dai mondiali bella figura di merda che martedì giocheranno in turchia una partita inutile per il ranking UEFA e poi si scaldano i motori per il big match di domenica sera juventus inter juventus inter speriamo di fare uno scherzetto ai nostri rivali di sempre dell'inter oggi è proprio una bella giornata una bella giornata una bella passeggiata qua nella natura selvatica natura selvatica natura selvatica però non si vede un cazzo di pesce incredibile non si vede proprio nulla è sempre bello qua venire in questa zona è sempre bello la sabbia la sabbia la sabbia e beh questo è di cazzo vogliamo parlare eh mannacchio ma sai sai mi sta ah ecco guarda che pescione ma zio doveva essere forse un cafetano un caverno di quelli grossi belli grossi ogni tanto se ne vede qualche così ecco sia la vita di bali sono andato lì di bali è andato lì anche qua un bel posto per pescare pescare eh sì questo è una bella stiamo vicino alla centrale nucleare adesso passano due stanno passando due cavalli 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 le selle cavalli vabbè ragazzo vi saluto vi auguro un buon sabato a tutti ci sentiamo lunedì sera per i venti in svizzera cerchiamo di farlo vediamo proviamo ciao